Il programma di questa sera è essenzialmente barocco, eseguirò due arie tratte da un oratorio, la Giuditta Triunfans, e da un'opera invece, l'Orlando Furioso, che forse è una delle opere più famose, più rappresentate anche di Antonio Vivaldi. Ho sempre trovato questo compositore straordinario nel suo modo proprio anche di trattare la musica in corrispondenza delle voci. Anche in corrispondenza delle voci. This year, of course, was the big anniversary of Dante and I was composing a big work on Inferno and I started my first exploration with his poetry with Limbo because for me it's perhaps the most interesting and complex of the circles because in Limbo we have these great poets, these great philosophers like Plato, Horace, Socrates. Inferno 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 Scusate il mio dolce amore Scusate il mio dolce amore Scusate il mio dolce amore Il mio dolce amore